Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena incredibile Mario Cusitore si presenta sotto casa di Ida, accade l'impossibile Uomini e Donne continua a tenere tutti i telespettatori con il fiato sospeso, con numerosi colpi di scena pronti a colpire il pubblico L'interesse dei seguaci della trasmissione è diretto tutto nei confronti della travagliata storia tra Ida Platano e Mario Cusitore Purtroppo il corteggiatore napoletano è vittima delle L'accusa è stata prontamente smentita dal cestista napoletano, che ci ha tenuto a sottolineare come questa segnalazione fosse infondata Inoltre sembra proprio che Cusitore sia disposto a tutto pur di dimostrare ad Ida Platano di tenerci davvero A stimolare il corteggiatore ci sta pensando anche il suo avversario per Paolo Siano Secondo le ultime indiscrezioni in molti erano pronti a scommettere su un'assenza di Ida e Mario nello studio, ma così non sarà Cusitore addirittura si è presentato sotto la casa della dama bresciana Uomini e Donne, Mario sorprende Ida sotto casa, la reazione della dama Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne hanno sottolineato più volte l'assenza in studio di Ida Platano Nonostante questo sembra proprio che la dama bresciana sarà comunque una delle protagoniste della puntata odierna A rivelarlo ci ha pensato l'ultima segnalazione di Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram L'esperto di gossip e tv ha rivelato come ci sarà spazio per Ida Platano e Mario Cusitore nel corso della puntata odierna Attraverso una stories rivelata sul suo profilo Instagram, Pugnaloni ha ribadito come in studio ci saranno sia Ida che Mario L'insider ha però sottolineato come due non saranno insieme Quel che sembra certo però è che Cusitore sia andato sotto casa di Ida per dimostrarle quanto ci tiene Le intenzioni del corteggiatore erano pure, con Mario che ha cercato di sorprendere Ida con il solo scopo di parlarle Ma proprio la reazione della protagonista del dating show ha sorpreso tutti Infatti sembra proprio che Ida non sia scesa. Quest'ultimo siparetto sembra proprio essere un confronto che chiude definitivamente il percorso dei due Il pubblico quindi assisterà all'addio ufficiale tra Ida e Mario Cusitore Ovviamente nel corso della puntata di oggi ci sarà spazio anche per il trono classico, con Daniele Paudice che animerà lo studio Il tronista napoletano continuerà la conoscenza con Marika e Gaia, batti beccando soprattutto con quest'ultima Questi ed altri colpi di scena andranno in onda dalle 14.45 come sempre su Canale 5 Grazie a tutti